Dalle ore 12 di oggi è partito il nuovo servizio di raccolta di rifiuti nel comune di San Giovanni Tiatino. Il centro di via Bolzano rimarrà al servizio della cittadinanza dal mercoledì al venerdì dalle ore 12 alle 17.30, mentre il sabato nella fascia oraria compresa tra le ore 12 e le 18.30. La riconsegna da parte dell'impresa al comune. Noi abbiamo ad invieto tutte quelle erano le varie forme burocratiche per consegnare all'SGS. Oggi l'SGS, inunditamente il comune di San Giovanni Tiatino, apre l'impianto. Un impianto tanto atteso. La cittadinanza l'ha sempre desiderata, l'ha sempre chiesto. Sembrava un sogno, oggi è realtà. Carta, cartone, materiale ferroso, pneumatici fuori uso, i residui derivanti dallo sfalcio dell'erbaccio, potature, ma anche tonere e cartucce per stampanti, legno, inerti provenienti da piccole ristrutturazioni, plastiche, metalli, batterie usate di auto e moto, vernici e pitture che non riportano simboli circa la loro pericolosità. Il vestimento ha contribuito anche la regione con un finanziamento di circa 200.000 euro. Questo servizio serve per aumentare la raccolta differenziata nella nostra città. Adesso siamo intorno al 70%. Mi auguro che possiamo aumentarlo e arrivare anche al 100%. È un'impresa, è una scommessa e mi faccio appello a tutti i cittadini di San Giovanni di Datino di sfruttare questa opportunità. I cittadini avranno il vantaggio che possono conferire in qualsiasi momento qui. Mentre prima passavamo noi, il servizio non verrà interrotto, il servizio passerà per quanto riguarda il secco residuo, da due passaggi settimanali a un passaggio. Però la cittadinanza voleva questa cosa, la sentiva, perché molte volte, faccio un esempio, uno che taglia il giardino, taglia le foglie, le sfacce e pottature, tenerli là per parecchio tempo, insomma, è una cosa non bella. Quindi possono metterli in macchina, venire qua e svuotare. Il nuovo centro di raccolta possono accedere i cittadini residenti sul territorio, ma anche i titolari di attività commerciali che svolgono la loro attività all'interno del comune. Per poter entrare, un interessato deve recarsi sul posto negli orari indicati, portando con sé oltre ai rifiuti anche la bolletta che attesta l'avvenuto pagamento dell'Atari. In alternativa, è possibile presentare un'autocertificazione.